ciao a tutti bentornati in questo gameplay dopo aver terminato la trama principale inizia la trama secondaria con Maria quindi Hamas nato da un desiderio sempre con normale quando I woke up, I was all alone. Everyone's gone. Is it because of those monsters? What do I do now? Do I fight and live? Or do those monsters get me? I don't have any reason to go on living. But I'm scared to die. I'm so afraid of pain. Should I run away? I want to find somebody. I don't love being alone. But is there anyone left alive? I'm scared to die. Eccoci qua con Maria. Allora, volete Grevolver e questi eventi si svolgono prima che lei incontri James. mi vado a salutare e mi vado a salutare. Vi faccio vedere dove ci ritroviamo. You have night, night dove lei lavora, credo. Allora. mi vado a salutare. Eh, volevo fare...no. Opzioni. Ok. Avanzate. No. No. di gioco il 3 al massimo, ok perfetto volevo accettare di questo qui è chiusa e qui non ci dico da prendere perfetto, vals qui da dove sono uscito ruta una piccola mammaia cinese il kit è pronto soccorso e qui non c'è altro vedi vams e siamo all'esterno allora o vado a nord o vado a sud io direi prima di esplorare a sud ok ci siamo fantastico non mi vado a salutare sul camion qui vado adesso nord anche no allora allora vediamo un po' mi sono stancho che fosse solo un colpo coltello coltello alla quadra brutto ma potente e facile da usare bene bene vediamo un po' cosa trovo da questa parte a parte queste cose qua una gran figata oh guardate un po' anche maria anche maria è un'altra matematica devo dire per non avere esperienza ma peccato che in origine la parte con maria non c'era solo nella edizione direct cut cut direct horse cut in realtà ecco ci siamo capiti ecco allora sono ancora loro da cavolo sono altri preferiti a abusarmi ah sul tetto ma guardate un po' non ci credo ma guardatela pazzesco interessante sta sta visuale devo dire oh dobbiamo andare salutare assolutamente si dai dai ma si va di qua eh vado in su non lo voglio andare più in giù ok non c'è niente dove vado lì qua da nessuna parte che non si vede un tubo la lembia è troppo fitta oh oh e qui dopo si è trattato a noi su aprile sembra la storia sono assinata parte ok amico ho aggiornato la mappa esplorso un po' bene così otto aggiornato e so bene come muovermi ok qua nada di nada tutto bloccato ok oh ma guardate un po' chi c'è aia stronzo ecco la pativa papà 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 ok se vado di qua e poi torno in su da dove avevo iniziato salve aia ecco la pativa e mori ok e qui che c'è ah nel parcheggio qua però non si vede un gran che soprattutto se c'è qualcosa da raccogliere c'è un'alaga ok davanti allora anche non si vede qua però scusate ma di qua allora dove l'ho arrivato ok andiamo avanti di qua andiamo avanti di qua oh che cavolo è munizioni adesso è per la revolver il posto di solito devo trovare delle munizioni e anche qui strada sbarrata quindi non mi resta che andiamo avanti di qua andiamo avanti di qua ma che bella passeggiata per strada in questa città lina plina lina plina vamos ma si ok ma chiaro non ti giusto se c'è qualcuno oh si un mostro c'è vale e mori pensi di morire facciamo prima così va un'altra dai vieni qua aia santo di gianne 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 ok e qui torno torno allora ma veramente è stata sbarrata non ci credo e quindi alla fine tocca appena quella strada dove è davvero prima davvero prima pensate un po' mi ha donato tutto si ok torno il membrio pp papà 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 salali salala salala salalò facciamoci una corsetta per strada soli ok sembra il punto giusto no cavolo a dove c'era il mosso risultato ok ok e poi via giro a sinistra ma si può salve salve e 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 s e adesso la signorina e a morire state mobili giù devi stare giù e l'altro dovete non si sputa da solo signorina male e poi fai dante nel culo anche te va bene l'altra fai che cazzo che tavolo ecco ti ho dato la persona che meritavi allora prima di qua e la porta da l'altra parte l'altra è stata sbarrata c'è la porta? ma è chiusa ok un po' di resti di un mostro o di un catalogo non so ok sono al punto giusto buongiorno sono Maria apete me le porte sono venuto a trovarvi a casa si può salire la scala? no ma c'è vada qui nada ok ce ne sono c'è una manzella che sta passeggiando tutta sola con i vostri qui presenti e ce ne sono ben due salve lasciata che vorrei una signora maledetta crepati ok allora what is this che cavolo c'è qua oh munizia di pistola e la drover bene o no e qui nada si assomiglia alla parte principale nel gioco ok quindi qua si interrompe qua e non aggiora nulla va bene quindi vamos per la retta via di qua un'altra un'altra traccia di sangue di carne lasciata che mannaggia non è stata fanculo e che cazzo e che cazzo mole e cazzo o munizioni per rover facciamo sangue resti di o umani o mostri e porca puttana ma come osi non è male ok l'obietto sta là eh ma quindi ah devo aprire una via di qua si dai adesso mi impaccio però ecco qua bene ovviamente compagnia adesso però uso la sentite che bella musichetta una donna è amore ok c'è il camera grazie allora quello adesso la parte nuova mappa e siamo in questa bella villetta allora posso già salvare qui vediamo un po' qua la rotta la rotta pure questa ok immaginavo allora un bel kit medico e oggetti della revolver il camionetto è stato chiuso c'è scritto non usare va bene una lettera ah una mappa una mappa della casa badwin chiama la casa una serie di piatti decorativi i nidi particolarmente interessanti qui c'è il sallataggio com'è? è un modello della terra non mi sa è sbordi chiuso e qua rotta eh scusate ma allora se qua è tutto rotto di qua esco ah mi manca quella porta la questa è oh oh rotta andiamo le scale oh potete con la revolver una bella stavilla rotta aperta oh c'è compagnia prima però eh 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 is somebody there open up hello stop it you're disturbing me thank god I finally found somebody can you open the door can you open the door no but why is it really necessary for me to answer all your tedious questions yes yes I didn't know that I want to be alone other people just irritate me I just want to see another human face do you know what's happening in this time there's no one here just monsters do you want to be alone in this insane asylum? no one here means there's no one to disturb you no one here means there's no one to disturb you but how can you say that it's this time that's insane perhaps it's we who are insane both of us hopelessly insane are you satisfied? would you leave me alone? no 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 it's no it's you I'll be back I'll be with water preso proprietario della villa ok allora, quindi non resta che andare qua salve oh, che ho visto? tavoletta bianca tavoletta bianca di metallo con dei fori quadrati trovata nella sangue messa al secondo piano che strana una volta trovato il bianco fiato offri l'ho questo oggetto o spirito della nebbia portaci eterna fortuna scritto sul retro ok, sei già morto andiamo a saltare tutto blocca qua perché è di là comunque guarda la tavoletta oh my god guarda che cosa succede? guarda la tavoletta che cosa succede? fa che amico questa tavoletta qua? ho trovato il bianco fiato viene quella qualcosa c'è proprio l'icola quindi adesso sono all'esterno qui non c'è nada non posso aprirlo qui il cadavere di musica l'ho fatto fuori e bella zio non è che l'ha messa magari qui? no toccata la mia è stata la tavoletta qua se l'ho trovata rotta è ricordarsi non c'è Ernest, sei qui? Non. Penso che non. Tommi il vetro? Qui non c'è nada. Merazio. Allora, io tu qua. Ernest? Sei qui? Non. Non, non. Un bel casino. Non è una cosa facile. Per niente. Rotta. E' rotta. E' rotta. Salute